Ciao ragazzi sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di giovanili ma prima di tutto vi ricordo di lasciare un like Attivate anche la campanellina, io non lo dico mai ma se volete attivate la campanellina E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale Allora, volevo parlarvi appunto del campionato under 18 La Juventus ha deciso di non partecipare al campionato under 18 Ovviamente i pochi anti-juventini che seguono le giovanili hanno deciso di far polemica su sta roba Perché in teoria la FIGC ha messo una regola che stabilisce che chi partecipa al campionato primavera Debba avere anche l'under 18 Ma dal momento che la Juventus è l'unica squadra di serie A O che partecipa al campionato primavera Che ha anche una seconda squadra che gioca in serie C O sia l'under 23 La FIGC darà un'aderoga che permetterà alla Juventus di non partecipare al campionato under 18 Tra l'altro campionato che negli ultimi due anni in teoria è stato in una specie di versione di prova Adesso dovrebbe diventare ufficiale Niente, i pochi anti-juventini che seguono le giovanili Comunque ovviamente hanno fatto polemica perché si sa Però c'è una giustificazione Nel senso la Juventus è l'unica squadra ad avere l'under 23 E quindi ha deciso di non fare l'under 18 Anche per il fatto che vuole ringiovanire le altre squadre giovanili Cioè in questi anni la Juventus ha cercato di togliere tutti i fuori quota dalla primavera E sta cercando di abbassare l'età media anche dell'under 23 appunto in serie C Questo vuol dire che quelli che dovrebbero formare l'under 18 Quest'anno faranno già parte attivamente della primavera E tanti della primavera passeranno invece in under 18 Eh sì, scusate In under 23 ho sbagliato a parlare Per questo non ci sono proprio i giocatori per fare anche un under 18 Diciamo, dovrebbero prendere altri 20 giovani per fare un under 18 eventualmente Fatto sta che appunto ci sono state un po' di polemiche Ma non c'è niente di che, non preoccupatevi Insomma la Juventus non può ricevere sanzioni appunto perché ha un'aderoga apposta Perché se vuole può non partecipare appunto al campionato under 18 E non parteciperà Tra l'altro oggi Giovanni Albanese mi sembra Ha pubblicato in un tweet Tutte le panchine della Juve giovanile Sia maschile che femminile Vi vado a leggere i nomi che ci saranno nelle varie panchine della Juve Se trovo il tweet Eccolo Allora, l'under 19 conferma Andrea Bonatti Tra l'altro l'under 23 non l'ha scritto però Ha rinnovato Zauli L'under 17 riconferma Francesco Pedone Mister Allucinante Ha ottenuto un sacco di buoni risultati con l'under 17 Anche se quest'anno non ha vinto lo scudetto Ma ragazzi Cioè ha vinto due tornei internazionali prestigiosi Quindi non gli si può dire niente E i migliori che stanno uscendo adesso Vengono tutti da lui Cioè Dragosin viene da lui Dalla sua squadra di due anni fa Miretti viene da lui Cioè tutti quelli migliori che stanno uscendo adesso Li ha allenati lui Poi Pietro Panzà Eh sì scusate Piero Panzà Naro Sarà nella panchina dell'under 16 Poi Benesperi Sarà nella panchina dell'under 15 E poi Grappi, Catto e Di Benedetto Saranno nella panchina dell'under 14 Nella Juventus Woman Piccini Beh mi sembra sia la stessa di quest'anno Sarà appunto nella panchina dell'under 19 Poi Scrofani Nella panchina dell'under 17 femminile E poi Luca Wood Penso si pronunci così Sarà nella panchina dell'under 15 femminile Niente Questa è Non ho altro da dire Appunto l'under 18 Maschile non ci sarà Ma state tranquilli Perché non ci serve Nel senso Stiamo ringiovanendo Tutte le altre squadre Quindi chi era destinato all'under 18 Andrà in primavera direttamente E per fare spazio a loro Alcuni della primavera Passeranno in under 23 Quindi nulla ragazzi Sempre fino alla fine forza Juve Sempre fino alla fine forza Juve Giovanili Diciamo Quindi under 23 Under 19 Tutti quanti E nulla ragazzi Ciao Ci vediamo un prossimo video